Ciao, ciao, salve a tutti, stiamo in pericolo, dobbiamo correre, non vi possiamo spiegare nel frattempo, ma sappiamo... Guido io, guido io. Vai, guida a te. No, anzi, guido io, questa è una cosa molto importante. Magari fammi entrare così, ci salviamo il tempo, vai. Una bici. Sai che ci serve una bici qui? Serve qualcuno? A me no. Estremo. Qualcosa mi dice che dovremmo uscire. Qualcosa mi dice? No, che io non dovremmo uscire. Se l'avevo detto. No, sono morto. Sei morto te io, guido io, guido io.